Ragazzi, buonasera, mi trovo qui al forno di Piase, all'isola del Capoverde. Questo è il forno. Vediamo che c'hanno oggi, oh. Non ci sono mai stato, ovviamente. Ciao, andiamo a notte. No, non è vero. Allora ragazzi, ho preso questo qui, che è un pangosciolo che fanno loro. Questo è un rotolo di burro, ti può stare a mettere, diciamo. Poi voglio provare lo strudel, lo vorrò. Lo strudel è bellissimo. Allora ragazzi, assaggiamo lo strudel. Vediamo il cappiallo. Buono. Lo strudel è buonissimo. E' da paura. La pizza, la pizza non mi ispirava molto. I miei dolcini, questi qua sono. Matteo, è molto, molto zuccherato. Molto dolce. Molto dolce. Assaggiamo il pangoscio. Certo, un po' due cose sono fatte stamattina. Ma è bello duro. Non è buono. Questo è appena sfornato da paura. E' bello il piano dei gocciole. Diciamo che per i dolci, un sette e mezzo io lo do dei gocciole. Lo strudel era da otto e mezzo. Mi fa il gocciole. No, io ho sette per adesso e con l'altro io ho un sette. Mi basso su quello che ho preso perché la pizza è quella che c'è stata. Adesso magari è appena sfornato tutta un'altra cosa. Però questo è buono. E se la metà via fudida di un mentale.